In principio fu mentore, l'uomo al quale Ulisse decise di affidare il figlio Telemaco prima di partire per la sua odissea. Dall'ora mentore è divenuto termine di osio comune per indicare chi segue, consiglia, aiuta e illustra, chi fa da gancio nel caso specifico del progetto portato avanti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore a Cremona tra mondo del lavoro e università. Per fare il punto sull'ottava edizione con 27 coppie di mentore e mentì, ossia chi consiglia e chi viene consigliato, è stato organizzato un momento martedì nel tardo pomeriggio. Il progetto di mentorship, quindi per incontrare le aziende con l'università e permettere agli studenti di poter avere dei mentor, quindi delle figure professionali specializzate nei diversi settori dell'azienda, l'alimentare, la parte economica, giuridica, che possano seguirli e dare degli spunti per quanto riguarda la loro carriera futura ovviamente e spunti anche, perché no, sulla base della loro esperienza personale. La sede di Cremona stiamo crescendo per quanto riguarda i numeri, siamo alla sede più piccola ma in assoluta crescita, con accoppiamenti appunto fatti ad hoc rispetto anche alle richieste degli studenti su quella che può essere la loro motivazione riguardo a una futura carriera. Facciamo toccare con mano sia la realtà aziendale e sia magari cerchiamo di così, di rinforzare o di riequilibrare quello che gli studenti magari non hanno ancora appreso nel loro percorso di studi e quindi oggi siamo contenti di essere qua in un confronto. Illustrato da Fabrizio Capocasale e Fabrizio Campione, membri del comitato scientifico MyMentor, il progetto riguarda tre corsi di laurea magistrale Agricultural and Food Economics, Food Processing e Innovazione e Impreditorialità Digitale. Vai ad affrontare argomenti a cui solitamente non pensi e vedi sicuramente come il mondo del lavoro è in un'ottica diversa. È nata una collaborazione che mi sta aiutando con la mia tesi di laurea, trovandomi contatti con delle altre aziende in cui posso fare delle interviste a dei manager riguardo appunto quella che è la mia tesi di laurea.